Oggi siete vincitrici, vincitrici di cosa? Del make the difference. Raccontaci di questa esperienza. Beh, io mi sono divertita perché siamo andate in giro, c'è stato però un peccato che non ci siamo potute andare tutte insieme. L'avete fatto, in sostanza? Siamo andati dai bisognosi, a dargli del cibo, dei giochi, eccetera. Grazie. Quanto è importante aiutare gli altri nella vita? Perché? Ti è mai successo di aiutare qualcuno anche a scuola o nella piccola quotidianità della vita? Sì, mi è mai successo. Tipo quando qualche compagno mi chiede di aiutarlo in qualche materia e io lo aiuto molto volentieri perché secondo me è molto importante. Ma anche se lui non ti dà niente in cambio? Sì. Perché? Hai sempre soddisfazione? Perché? Perché mi fa sentire felice aiutare delle persone che magari non sanno qualcosa che hanno bisogno. Speri che un giorno qualcuno ti possa aiutare? Sì, se ho bisogno... Che sogno hai nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto è cercare sempre di aiutare qualcuno che ha bisogno. E comunque cercare di aiutare le persone che magari hanno difficoltà in qualcosa. Quindi make the difference per non essere indifferenti, non bisogna essere indifferenti nella vita? Sì, bisogna essere... Guardarsi attorno forse, ci sono delle realtà diverse? Sì, anche se siamo tutti diversi, alla fine... Ascoltarci e darsi una mano. Ecco.